Siamo con l'onorevole Giuseppe Fioroni, parlamentare del Partito Democratico. Qui al secondo meeting delle Acli del Sud parliamo di Stati Uniti d'Europa. A suo avviso qual è la ricetta per ripartire dal Sud per una crescita europea? Tanto innanzitutto bisogna costruire gli Stati Uniti d'Europa perché noi siamo una grande comunità di più popoli che ha la stessa moneta ma non ha né una politica economica né una politica finanziaria né una politica estera né di difesa comune. Basta pensare che adesso con le nuove iniziative del Fondo Salva Stati, della capacità di rendere il debito corresponsabile di tutti i paesi tutte queste funzioni vengano affidate a dei funzionari. Io credo che la cessione di sovranità un cittadino può farla quando vota un governo europeo. Ecco il perché degli Stati Uniti d'Europa non può delegarla di certo a dei funzionari se non per un momento transitorio ed urgente. Il Sud rappresenta la scommessa per l'Europa perché l'Italia, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, le regioni a sud della Francia rappresentano una grande risorsa per l'Europa nella misura in cui le politiche di coesione che riguardano sia lo sviluppo che le infrastrutture pongono queste regioni in grado di essere agganciate resistendo alle tentazioni del leghismo europeo, tra virgolette, che pensa ancora che ci si possa salvare da soli mentre se noi non costruiamo gli Stati Uniti d'Europa e non costruiamo all'interno degli Stati Uniti d'Europa una forte politica di coesione e di crescita dando opportunità al sud dell'Europa ma ottenendo anche tante opportunità di sviluppo comune rallentiamo soltanto un periodo di crisi che alla fine vedrà finire tutti e non solo i paesi del sud ma anche la potente Germania.